benvenuti al primo appuntamento con forlini brand news il brand che vi presentiamo oggi è una vera icona del lusso nel mondo fashion ed è molto amato dai nostri clienti materiali innovativi colori sempre attuali e design originale collezioni aware riconoscibili per stile e buon gusto che portano la firma di un talentuoso stilista tra i più apprezzati al mondo linea d'angelica pagnelli per il brand news dedicato a tom ford grazie per la linea gianni carismatico eclettico geniale sono gli aggettivi che meglio rappresentano lo stilista statunitense a cui dedichiamo il nostro brand news di oggi a soli 17 anni tom ford si trasferisce a new york per studiare la person school of design ed è proprio qui che diventa un assiduo frequentatore della famosa discoteca studio 54 dove conosce andy warhol simbolo della pop art da cui si lascia molto ispirare dopo un po di anni non si la design come molti potrebbero pensare bensì in architettura tom ford salito alla notorietà per essere stato il direttore creativo di gucci ha lanciato il suo omonimo marchio del lusso nel 2005 pensate iniziando proprio con gli occhiali lo stilista è anche molto apprezzato per le fragranze black orchid è uno dei profumi più venduti al mondo per la cosmesi con una vasta selezione di prodotti beauty e makeup e per le sue prestigiose linee di abbigliamento e accessori uomo donna il suo concetto di bellezza no gender è declinato su molte delle sue creazioni basti pensare che ha creato una linea makeup uomo le sue campagne pubblicitarie sono sempre molto accattivanti sensuali provocatori e tanto da diventare un vero teatro degli eccessi tom ford ha vestito molte celebrities come beyonce jennifer lopez gilmer patrol daniel craig tom hanks johnny bep l'elenco è davvero infinito negli ultimi anni questo uomo dei mille talenti ha affiancato alla carriera da stilista anche una fortunata carriera da regista e sceneggiatore entrambi i suoi film sono stati nominati all'oscar e single man nel 2009 e nocturnal animals nel 2016 tom ford è stato eletto nel 2019 presidente del council fashion of designers of america il suo è un impegno di grande rilievo per restituire identità alla new york fashion week e dettare orientamenti all'attuale sistema moda in crisi posa ai valori del brand chi certamente ha una grande personalità ama viaggiare un'attitudine verso il lusso e l'unicità tutti i modelli sono immediatamente riconoscibili per il dettaglio della t in metallo che caratterizza anche altri accessori come borse scarpe e cinture l'essenza del brand è declinata in tre cluster collezioni classic chic forme moderne e classiche facili da indossare caratterizzate da un design molto lineare i dettagli sono preziosi ma discreti e queste collezioni uomo donna oltre a presentare la t in metallo per alcuni modelli femminili presentano un'asta tubolare collezioni iconiche il perfetto mix di un design contemporaneo con le forme iconiche di molti tra i più interessanti modelli eyewear vintage avant-garde modelli dalla forte ispirazione retro caratterizzati da un design pulito e da bellissimi colori vintage il simbolo dell'infinito che molte culture simboleggia il tempo senza fine l'amore eterno e l'incrocio frontale di molti modelli tom ford proposti anche in palette con i colori delle ultime tendenze volumi importanti e ben definiti con ispirazione anni cinquanta e settanta declinati al femminile su forme catai e butterfly e al maschile su modelli vintage con tocco contemporaneo rappresentano l'eleganza glamour del brand il design essenziale le forme evergreen e l'elevata qualità dei materiali sono un master di tom ford che parla un linguaggio di minimalismo molto raffinato tom ford propone anche alcune combinazioni preziose come il titanio giapponese e gli inserti in vera pelle puntando sul ready to wear non solo per l'abbigliamento ma anche per i modelli eyewear grazie alle lenti blue block che prevengono e alleviano l'affaticamento agli occhi causato dalla lunga esposizione alla luce blu prodotta dai dispositivi digitali i modelli sono immediatamente indossabili anche da chi non ha un problema visivo ma desidera vestire il comfort visivo un brand che detta sempre gli ultimi trend come quello del clip on magnetico capace di trasformare un occhiale da vista in occhiale da sole con un semplice gesto lenti colorate modelli retro pilot ponte alto sono le ultime tendenze tom ford l'universo fashion che si trasforma continuamente in un vero e proprio show ecco l'occhiale che ha sfilato sul catwalk autunno inverno 2020 e 21 e che è stato un riproposto in altre bellissime colorazioni del fashion show primavera estate 2021 e ora occhio alla sostenibilità nel 2020 tom ford lancia il primo orologio green realizzato al 100% con plastica recuperata dagli oceani il nuovo tom ford ocean plastic timepiece ricorda che è sempre più il momento di essere dalla parte del pianeta terra da angelica pagnelli è tutto grazie per averci seguito appuntamento al prossimo brand news forlini optical arrivederci